Questa è la splendida azione di Didonè che permette a Bizarre di realizzare il gol dell'1-0 La felicità dei giocatori, immagino al secondo tempo, vedete un contropiede del Siracusa sulle fiste esce il portiere, nettissimo il fallo da rigore, dagli 11 metri non sbaglia, Bizarre Poi un'altra azione che somiglia alla precedente, vedete c'è sempre questo fuga sulla sinistra questa volta però Bizarre riesce ad evitare il portiere ed è il gol del 3-0 E' una grossa soddisfazione essere primi in classifica cannoniera però ripeto l'importante è aver vinto, aver fatto punti e essersi staccati definitivamente da quella zona che era ancora un po' pericolosa Ecco, il morale di Bizarre a questo punto è molto alzato Ma sì, il morale era anche prima alzato, io non ho mai avuto problemi forse qualcuno ha cercato di, che ne so, sottolineare un po' le prestazioni che io facevo prima certamente non erano esaltanti d'altronde uno non può giocare tutte le domeniche come ha giocato adesso perché non può fare tre gol tutte le domeniche ci sono anche i periodi brutti, io spero di averlo superato e spero di continuare su questa situazione